Saldi stivi post-covid dopo un inizio flop con molta gente che ancora non sa se ne essere ecco la fotografia della spesa scattata da confesercenti su Venezia e provincia. Abbiamo ovviamente una Venezia centro storico in cui la dipendenza dal turismo internazionale è ovviamente importantissima e lì le cose vanno molto male. Abbiamo poi le cittadine come mestre in cui c'è un ritorno del consumatore al negozio di vicinato e quindi le cose vanno un po' meglio e poi abbiamo le spiagge dove pare che il turismo balneare abbia avuto una risposta seppur tardiva ma ancora positiva e dove le cose vanno sostanzialmente molto meglio. Cavallino è la località del litorale che primeggia sulle altre sempre del veneziano. Il perché lo si deve alla sua offerta di campeggi e villaggi turistici. Perché l'aria aperta in qualche maniera dava più garanzie ai turisti dal punto di vista della tutela sanitaria però attualmente soprattutto in quest'ultimo periodo grazie ai turisti tedeschi e austriaci che sono ritornati nelle nostre spiagge anche le altre località come Iesolo, Eraclea e Bibione stanno ritornando non ai livelli delle stati degli anni degli ultimi dieci anni ma comunque stanno ritornando a un buon livello. E l'ulteriore buona notizia per il commercio è che con gli obbligati ingressi contingentati la spesa dei mestrini è aumentata. È quello che noi chiamiamo coefficiente di trasformazione cioè quanta gente viene a visitare il negozio e poi effettivamente fa un atto di acquisto. Ora poiché l'accesso ai negozi è limitato per evitare l'assembramento è aumentato il coefficiente di trasformazione cioè le persone che entrano in un negozio molto spesso trasformano la loro visita in un atto di acquisto perché ovviamente entrano già consapevoli e interessate all'acquisto. La media di una famiglia era sui 150 euro è possibile che vengano raggiunti ancora ma in un periodo molto più lungo.